bentornati su evitube esordio su ep dei sepolcro band di cui parleremo appunto in questa mini recensione recensione lampo sepolcro sono una band veneta attiva da 2011 con nella sua storia una serie di demo e uno split insieme a presi un dead amorphous mass è il titolo di questo ep uscito per un only domain cosa ci propongono in questi quattro brani più internezzo ci propongono un old school death metal di chiara estrazione incantation oppure funebrarum e con ampi richiami comunque a livello di atmosfera di potrei dire marcescenza a chiare riferimenti a quella che era la scena finlandese secondo me band assolutamente in gamba si sente che sepolcro non sono una di quelle band che si sono hanno scoperto l'old school oggi scusate ma una band che bazzica l'underground da anni e che conosce perfettamente il genere e fa questo perché ce l'ha nel proprio dna per cui pezzi come the malevolent mist name dimensions eccetera eccetera riusciranno sicuramente ad attirare le attenzioni le vostre attenzioni perché perché il lavoro di chitarra funziona perché le atmosfere sono quelle giuste la prova vocale micidiale sia quella di annes che di simone e per cui hanno sicuramente i sepolcro sono riusciti a a costruire questo questo bel dischetto poi io devo essere sincero io amo il il formato ep perché hai un quarto d'ora a disposizione massimo venti minuti e non puoi in linea di massima permetterti nemmeno un pezzo brutto perché appunto lo va va a pesare molto all'interno l'economia del disco qui abbiamo venti minuti di musica cinque pezzi due appunto quattro sono pezzi effettivi poi c'è una specie di intermezzo che forse dura leggermente troppo tre minuti poteva durare di meno però va bene e comunque abbastanza atmosfera e rende bene l'idea musicale del sepolcro che anche che va molto poi a pescare chiaramente dell'immaginario lovecraftiano come si vede già dalla copertina se proprio proprio dobbiamo andare a cercare un difetto all'interno di questo disco e forse io lo vado a trovare nei suoni soprattutto nei suoni di chitarra che sono sì sporchi quindi evitiamo sicuramente e per fortuna i suoni puliti troppo leccati troppo artificiali sono sporchi ma non nella maniera giusta secondo me non nella maniera più paludosa viscosa bastarda degli incantation disma di tutta quella gente lì è un suono sporco ma anche molto freddo e questo tende ad appiattire secondo me l'assalto della band soprattutto nei momenti in cui ci si spara ci si lascia andare un blast beat micidiale dove anche la batteria tende a sovrastare un po lavoro di chitarra e secondo me è un peccato non è grave per carità non è grave perché comunque l'ascoltatore attento riesce a riconoscere in ogni caso il lavoro di chitarra che comunque pregevole però sicuramente non ce lo si riesce a godere quanto si dovrebbe e quanto sarebbe giusto in realtà perché comunque ripeto è un buon lavoro questo piede sepolcro e sicuramente la band ci sa fare poi va a feeling chiaramente il discorso suoni ci si può litigare si può discutere per ore e ore magari due sono su due posizioni diametralmente opposte nessuno si muove da queste però è questo effettivamente il mio punto di vista sui suoni per il resto amorphous mass e il sepolcro se voi siete amanti del death metal old school se siete patiti grandi fruttori di lovecraft davvero sepolcro amorphous mass sono il gruppo LP che fa per voi come al solito fatemi sapere cosa ne pensate sui commentando e condividendo grazie e state bravi ciao ciao